Trovate la posizione... E Chiatacianca ha la teoretta. No ragazzi, visto che non ho più una intro, siete libri di salutare come cazzo volete. No, non si. Accuno matata ragazzi e... No, inteso senza il copyright però. Senza il copyright. Qualcuno che spieghi brevemente che si fa, anche se tanto l'hanno letto nel titolo e quindi è inutile. Te devi chiedersi un punto. Ciao. Sì, ma io le mp5. Ok, allora, ho iniziato perfetto. Ho 30 di vinto, bene. È importante iniziare bene. Lo sai che se ti atterrano adesso hai 20 di vinto e non pensi in quanto. Sì, vabbè, tanto visto che ormai il gioco è diventato un collaborode di roba. Hai ragione. Ma come sei bella? Ma io seguo Drake perché sì, sono un pedofilo. Bello se tu hai vinto il gioco, ci sta. Ma a parte Drake, l'ultima volta che ho visto il tuo video dei 10k avevi 16 anni. Cioè, allora, scusa, no, 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 fefe, fefe. Frank, allora io posso mai andare 4-4 dietro al tuo ring? Vedi una telecamera? Boom, boom! Cioè, cazzo, dimentico, non è che allora corro a sto punto? Cioè, è inutile che faccio il 4-4 se tanto ti fai sentire. Eh, quello fa esplodere roba. Roba! Granata! Non ho notato, non ho notato. Non ho mica capito come stiamo arrivando. Non abbiamo niente, Vanni! È un inquadro, ragazzi. Easy, easy! Ma che cazzo? Ho preso uno. Grande bombe! L'ho ucciso Jeremia. Lucio, lo chiamiamo un po' brasiliano. Ragazzi, sta qui, sta qui! Ma io basta stannare me! Io sono il tuo alleato! Cazzo stanno a me? Bello sto d'oroggio. Meglio tutti che nessuno. Se faccio stun kill è bruciato. Vederei che è diventato un tavolino. Vada, Frank, tutto tuo! Anzi, aspetta, fammi... Davide, ho inventato un pochino, bro. Ma daga, mi dissi la città. Non è nel pavimento. Ditorna, quella striscia! Ma chi è striscia, scusa? Ah, la distrazione! Bravo, Frank! Ti piace guardare le poltrone, eh? Ehi! Guarda le poltrone. Guarda la poltrone è un'assassina, guarda lì. Non lo sapevi? Non lo sapevi? Oddio, no! Uno l'ho colpito su pieno, non so quanta vita abbia. Comunque ho fatto una strage perché gli ho fatti sparare fra di loro. Aspetta, aspetta! No, vai via! Mi stanno sparando! Che devo fare? Dov' andammene via! Scusami! Sì, 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 sì. Mi vengo a tenere da... Ma qui il gorilla è in difesa? Che cazzo ce l'hai fatto? Perché stanno sparcare me in difesa? Guardi, guardi! Guardi, guardi! Una a terra, Davide! Grazie! Ti ha aiutato! Ti dico che aveva anche l'abilità IT. Oh! Batonna! No, erano... Non ci ho capito! Allora, scusate un attimo! Io ero un attimo girato, perdonatemi! Non ci ho capito! Guardate il gorilla! Guardate il gorilla! E avevo vinto il gorilla! Ma scusate, non ho capito! Ma di spaccare i muri in difesa, che cazzo c'era? Per dire gli attaccanti di cibo, eh? C'ha roba il mio figlio! C'ha roba il mio figlio! Porco di... Eh, anche quello che è stato a YouTube! No! 1.940! Mi darei felice? Sle... Sleggia, hai un martello! Usalo! No! No, non penso che... Eh, vabbè, signori! Ti vengo a prendere, eh! C'ho il bustino, eh! Ma voglio usare shit! Guarda! Oh, Frank! In tutto il cazzo di tirare roba, granate, eccetera! Basta! Innanzitutto non lo tirare, innanzitutto! Su sto gioco si spara, non si lancia roba! C'è un po' di gente, mi sa! Tra poco trovo! Oh, questo... Perché sto... Zingano, in arrivo! MACHIAL! MA CHIAL! MA CHIAL? DAI?! VAI! DAI?! TAQUI nutTO! TAQUI NARO! TAQUI NARO! TAQUI NARO! TAQUI NARO! DAI NEN ANGOLINO Hello! Ho fatto una asympt... Ho fatto tre asympt! E' quello che mi ricordo è così! Vieni a me! NO! è la mia d'angolino anche lui no io stavo togliendo mi sa che ti vede no stavo si cazzo vai clac è qua è qua dietro è qua dietro sta arrivando sta alla sinistra regà no regà dovete guardare c'ha il pompa tutto storto c'ha il pompa tutto storto mi ha sparato guarda io vedevo quell'animazione puntava in alto a destra mi ha sparato col caricatore mi ha sparato è uscito il pallettone infagio il pallettone mi arriva la nitros e l'in bocca no t'ho lasciato guarda quello l'iphone guarda quello è nell'angolino vai bello mi è piaciuta quella no ma è stra forte guarda regà no vabbè lasciate da solo regà regà io voglio allora schitti scatti lanci la granata 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 ha uno di vita se te lo fai in uno scoop non ha uno di vita non ha uno di vita un cazzo le bombette dove l'ha visto l'uno di vita appunto zitto magari io ho visto allora io ho visto io ho visto frankie io ho visto frankie fare proprio una prova incredibile ha tirato la granata ha fatto un 360 si è buttato a terra ha sparato a cazzo di cane non ho ben capito quello che voleva fare però no c'è l'ion ah ciao sto stalkerando lo smoke ciao ciao what's up no 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 è drake eh uh ciao bro va da caccia di drake oggi ciao bro ciao bro ah beh bro è molto bene bro ho tentato ha conseguito ho sentito adesso uno credo di averlo colpito almeno una c'è leggermente merito ma esatto ma addonna oh scritti ma hai rotto il cazzo qualcuno che toglie il tasto B da e contro le ok non vengono attuali qua 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 sinistra sinistra con i dove sinistra con i dove sinistra sinistra assoluto stanno incalcerati panico oh basta con sta nonna calmo scudo calmo chi si eh 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 no eh se no poteva attivare la terza cosa nel video non va bene passiamo da 20 centesimi a 5 no no c'è amaro da una parte c'ho 8 di vita no no quante vita mi sa che ti stavano sparando sed di lì di lì cosa no no uuuuuh quant'è brutto giocare senza audio è un botto ma si ma ha sparato ma hai sparato i gravini ma dove cazzo è sparato mi ha distrutto mi ha distrutto mi ha distrutto mi ha distrutto ti sono passati davanti ma non ci credo attenzione manca 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 no non mi hai visto nello stanzino degli stupratori ma davidio ma che dovrebbe sciogliere quel pompa quanta vita hai quanta vita hai quanta vita hai ho due come i centesimi che mi daranno per questo video no eh no 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 non ti faccio più partecipare ai video eh bastardo te ho preso lo sai che adesso toglie uno brecca lo sai che adesso toglie uno qui ah si? non va si toglie uno mi stai rolando odio c'è un altro eh oh ma non ti cazzo sono uno di vita eh bravi finiti eh che cazzo va a centrarlo eh che è successo? chi c'è? basta che ti guardi e sei morto tu eh ma davidio ma davidio no ah ansia no va bene no va bene no va bene ma vedi il mondo di vita ha tentato col twitch si guarda che potenza no la potenza adesso che fai? va bene adesso non so mi guardo ti ho visto il gran ritorno ah ritorno in fiamma ah no ma sei fruosa ah 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 ringraziamo l'uso per la partecipazione fisica anche per le mie cuffie e la cocaina nella cookie eh come dai vedi salutate ciao bella a tutti di ocari addio pure il copretto punto 5 ehm spero che il video vi sia piaciuto ciao bestemmiate nei commenti no nei commenti può anche essere a me che me ne frega molti a me vai 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 se mi bacchetto non pure con i commenti non fa mai come tu dici che tipo se flammi se scrivi cosa sulla chat ti ti bannano per il toxico ossissità si ma io torno a dire che sto corrida non cute e timore vabbè bella ciao